Siamo pronti per partire alla ricognizione di questo percorso, stiamo iniziando a salire, affronteremo questo primo dislivello per assaggiarlo e conoscerlo un po' meglio. Il percorso è davvero affascinante, ci si alza abbastanza subito, però il panorama merita davvero molto. Si vede tutta la valle, è uno spettacolo davvero incredibile. Stiamo scendendo di un bel po' rispetto al punto più alto e adesso il percorso è un po' terra, un po' neve, decisamente interessante perché l'altimetria è molto varia ma non impegnativa. Il percorso si fa sotto gli alberi, è davvero bellissimo. Adesso c'è una sezione in piano molto interessante in cui si prende piatto. Bene, qua il percorso smette di andare in piano, inizia un'altra salita, salita comunque percorribile senza troppi inconvenienti perché è un tiro più o meno piano però per cui non ci sono denti o scalini più facile. Quindi adesso affronteremo anche questo e vedremo come andrà. Il panorama stupendo davvero ci attende qui davanti a noi con le piste da sci e una corona di montagne a farsi compagnia davvero splendida. Partiamo correndo, dovremo continuare per un pezzetto in discesa per raggiungere un cambiato degli attrezzi e poi piano piano si risale sino a raggiungere il Monte Marca che è più o meno il punto più alto che raggiungeremo quest'oggi. Il percorso, benché sia attualmente senza neve, non è più di tanto occidentato, è percorribile senza troppi problemi e il panorama è davvero stupendo. Ho raggiunto i miei compagni di test quest'oggi, chiediamo a Mauro. Allora, com'è questo percorso? Il percorso è molto bello. All'inizio fa vedere un bellissimo panorama sulla pianura per poi arrivare in basso estero e vedere il panorama della balsonca. è un panorama davvero incredibile. Qua siamo un po' esposti, c'è un po' di vento, però è davvero bellissimo. E' ora di salire nuovamente e iniziamo a montare questa leggera salita che ci porta al piazzale 1. Salita in cui si può tranquillamente correre, è una salita piacevole e non troppo impegnativa. Al prossimo episodio